Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salerno è eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di una società della provincia operante nel settore della compravendita immobiliare e dei rappresentanti legali protempore. L'esecuzione della misura cautelare reale è giunta a conclusione di una verifica fiscale eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno nei confronti dell'impresa, all'esito della quale è stato riscontrato che quest'ultima ha omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni ai fini reddituali e dell'IVA per più annualità, con conseguente denuncia dei responsabili legali per il reato di omessa presentazione della dichiarazione oltre al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per legge, superando la soglia consentita dell'imposta evasa per un importo complessivo pari ad euro 1.680.516.